Siamo con Simone Arletti, Assessore all'Ambiente del Comune di Modena e Presidente della Rete CittàSane. Abbiamo appena assistito alla stipula, alla firma di un accordo molto importante. Sì, la Rete CittàSane è una rete di circa 1400 città in Europa e ovviamente fa riferimento l'Organizzazione Mondiale della Sanità al proprio centro della promozione della salute pubblica ampiamente intesa e quindi vuole portare maggiore salute nelle collettività a partire proprio dalle città. Le città che devono diventare sempre più resilienti, cioè capaci di resistere ad avverse condizioni, anche alle emergenze e capaci quindi di comprendere che oltre a un buon sistema sanitario, un buon sistema sociale, oltre ovviamente a precondizioni importanti per la salute come l'istruzione e il lavoro, esiste un'altra precondizione importante che è quella di stare in una città, in un ambiente sano. E questo è il motivo per cui insieme alla Rete Agenda 21, che ha tra i propri obiettivi quella appunto di creare comunità più sostenibili, che abbiamo pensato di mettere insieme le nostre forze e provare a elaborare delle strategie comuni. Credo che questo tema della resilienza, cioè di creare delle comunità che riescono a conoscere i pericoli, a prevenirli se possibile, comunque ad attrezzare le persone perché sappiano come comportarsi in caso appunto di calamità, sia uno dei possibili fronti di lavoro, anche perché ovviamente Modena, che è la presidenza della Rete CittàSane, negli ultimi anni tra sisma, alluvioni, bombe d'acqua, ha accumulato ahimè una certa esperienza. Grazie, grazie, buon lavoro.